Fondo impresa donne, boom di richieste al Ministero per quanto riguarda la nostra regione, però c'è il rischio che non ci siano fondi a sufficienza? Diciamo che sì, l'aspettativa era enorme da parte delle imprese femminili nell'accesso al credito a questa misura che le donne imprenditrici aspettavano da tempo. Il problema è nella modalità di invio, nel senso che alla fine si è rivelato un vero e proprio click day, quello che emerge dai dati che abbiamo attinto dal fonte ministeriale è che nella nostra regione ci sono state un numero di domande che percentualmente rispetto alle grandi regioni dove anche il numero di imprese sono maggiori, siamo sempre sopra soglia. Quindi l'Abruzzo è un'impresa che registra una percentuale di presenza di imprese femminile che è mediamente la più alta rispetto alle altre imprese della nostra nazione. Ci troviamo con questa analisi dei dati che ahimè ci porterà poi a vedere tante escluse da questo fondo. La nostra richiesta oggi è proprio nei confronti della regione Abruzzo perché finalmente si faccia un'azione concreta rivolta al tessuto imprenditoriale femminile. Le risorse sono tante che possono essere usate dalla pianificazione delle risorse europee per la programmazione prossima al PNRR. Quindi chiediamo alla regione di farsi carico anche di questo settore, di questo comparto dell'imprenditoria femminile che comunque fa registrare anche dei dati importanti di PIL per la nostra regione.